Ciao ragazzi, video precedente ho detto fate prendere del freddo alle vostre piante forse ho menato gramo perché qua fa sempre più freddo però non lo so, forse domani piove, non lo so e vabbè, vediamo cosa intendevo dire fino a che punto è giusto dare freddo fino a che punto è giusto proteggerle un attimino di sigla, se già non l'avete fatto iscrivetevi al canale like perché mi piacciono i like sono un esoso, mi piacciono tantissimo i like, mi motivano e dopo ne parliamo allora, ho detto fate prendere del freddo alle vostre piante qua vedete che, dov'è questo bel ginepruzzo qua vedete com'è marrone qua abbiamo un po' di piante che si vede che prendono il loro freschino ecco, si vede anche dalla colorazione allora, attenzione, queste qua sono piante chiaramente particolari d'alta quota, quantomeno per quanto riguarda i pini ginepra un po' meno allora, parlavo di far prendere freddo perché lasciamo perdere piante mediterranee tipo olivastri, sughere, anzi sughere più volte ho detto attenzione alle gelate tartive anche gli olivastri, specialmente gli olivi che da noi al nord attenzione, sto facendo un discorso qua per il nord perché poi gli amici giù in Sicilia, in Sardegna continuano in modo completamente diverso per forza grazie anche alla situazione che hanno di clima e chiaramente non avranno gli stessi risultati magari sui mughi, sugli abeti, sui larici come io non avrò poi quelli su, che ne so, determinati ginepri finici o su, che ne so, olivastri per dire ok, niente, dicevamo perché è giusto dare il freddo allora, il fabbisogno in freddo in realtà è una necessità della pianta cioè il freddo, il periodo invernale non è che la pianta è lì, ferma, aspetta e basta in realtà accadono un po' di cose chimicamente all'interno della pianta e tra queste vanno a disgregarsi gli inibitori, che sono quelli che fanno, che agevolano poi, che frenano la ripartenza cosa succede? determinate piante, se noi non gli diamo freddo necessario purtroppo avremo una crescita piuttosto forte, vigorosa sull'apice ma avremo un cattivo arretramento noi nel bonsai l'arretramento è oro perché per mantenerla, non tanto nel periodo di formazione che deve fare lunghezza ma poi per mantenere lì la crescita dobbiamo continuare a fare cambi d'apice e usare le gemme arretrate quindi l'arretramento è importante e per fare questo ci serve appunto che la pianta risveglie le gemme arretrate esiste un principio che si chiama il fabbisogno in freddo praticamente viene calcolato anche in ore, in monte ore che sono le ore sotto i 7 gradi centigradi è uno dei metodi di calcolo ecco questa cosa l'ho consigliata già negli anni scorsi a degli amici mi hanno detto effettivamente cavolo in primavera la pianta si risveglia diversamente sì perché magari era gente che la metteva nel tunnel o nella serra magari esposta a sud questa teneva alte le temperature non raggiungeva le ore di fabbisogno in freddo e la primavera specialmente le piante da fiore o da frutto concentrava il fiore in cima e dietro niente si svuotava, quindi ecco tenete conto questa cosa dovete dare del freddo si parla di 500, 600, 700 ore di freddo non la gelatina e basta quindi secondo la tipologia di pianta chiaramente qua io ho piante comunque di quota montagna, abeti, mughi ecco quindi non proteggete troppo le vostre piante eventualmente se ha il vaso piccolo ed è sensibile magari fasciate il vaso con del pluriball quello che volete però alla parte all'epigeo fateli prendere il freschino che male non gli fa ok questo è tutto attenzione ho parlato i conifere ci sono anche piante in quota come ad esempio che ne so i faggi per dire che sono vabbè ok questo è tutto spero vi sia piaciuto e basta ci vediamo col prossimo video che ho già mi stanno arrivando diverse richieste sotto i commenti dei video su youtube e questo mi fa piacere anzi scrivete qua sotto cosa ne pensate se avete vostre considerazioni a riguardo degli argomenti che trattiamo e oh guardate sta arrivando il sole incredibile in due secondi ha cambiato si sente anche il calduccio sulla faccia che bello va bene ragazzi dai spero vi sia piaciuto ci vediamo col prossimo video sto di Bonsai in Subria se volete seguirci forum con Bonsai Club.it canale telegram canale youtube i vostri politici sono io se volete tenersi in considerazione per il vostro percorso didattico noi siamo qua ciao ciao